eravamo quel giorno, dovevamo fare un tanto breve vivo scoprire il metterci nel sentiero che porta fino a Monte a Luna come al solito vedete la bella piscina, ma per il sentiero era sempre più lungo non immaginavo che arrivati in cima avremmo visto uno spettacolo inconsueto dall'altra parte della vallata vediamo un buon caldo